Bentornati su Hermes Channel Web TV! La curiosità di questa puntata è inerente alla salute in particolare dei capelli. Esatto, come difendere i capelli dal sole, dal sale e dal cloro. Ce lo spiega Marilena Panarelli di Castellana Grotte! Vediamoci il video! Ciao a tutti! Oggi a Sai Che parliamo di bellezza, in particolare dei capelli, quindi come curare i capelli dal sole, sale e cloro. Mi trovo in compagnia di Marilena Panarelli, nonché la titolare di Giamila Parrucchiere a Castellana Grotte. Marilena, quali sono le regole per la corretta esposizione al sole? Allora, come ogni anno, adesso che siamo nella stagione del mare e del sole, poco si parla di capelli tanto di esposizione al sole. L'unica differenza che c'è tra i capelli e la pelle è che la pelle praticamente si autorigenera, i capelli invece no. Capelli e sole, un argomento che ogni anno si ripresenta. Praticamente si parla sempre molto di come curare la pelle durante l'esposizione al sole e al mare e al cloro della piscina, poco si parla invece della cura dei capelli. C'è una differenza tra la pelle e i capelli. La pelle si autorigenera, quindi anche se ha dei danni per quanto riguarda la salsedine o il sole, dai raggiubbi, dal cloro, ha il potere di rigenerarsi. Il capello invece no. Quindi per non ritrovarci ad ottobre con una chioma spenta e sfibrata, dobbiamo utilizzare delle regole per far sì che i nostri capelli siano ben curati durante tutto il periodo estivo. Capelli e sole, quanto vanno d'accordo? Capelli e sole, una bella domanda. Non vanno per niente d'accordo. Praticamente il sole non fa altro che sfibrare la fibra capillare. La salsedine invece si deposita lungo l'esterno del fusto del capello, rendendo i capelli aridi, secchi, spenti e opachi. Quali prodotti utilizzare per protezione dal sole? Allora, prima di tutto dei prodotti idratanti. Ci sono degli oli che vengono utilizzati prima dell'esposizione al sole. Quindi praticamente prima di arrivare in spiaggia, questi oli vengono spruzzati sulla lunghezza e sulle punte dei capelli. Dopodiché, durante l'esposizione al sole, continuare ogni circa tre ore ad utilizzare questo olio a spray. Dopo a casa si utilizza uno shampoo idratante che elimina tutta la salsedine che si è depositata sul fusto del capello. E per finire, una maschera post esposizione al sole. Comunque sempre prodotti super idratanti. Marilena, quali sono i danni più frequenti? Allora, i danni più frequenti sono capelli crespi, sfibrati, spenti. Praticamente non riflettono più la luce che vi penetra all'interno. Proprio perché il mare, la salsedine, i raggi UV e il cloro non fanno sì che il capello sia lucido. Prima di partire in vacanza, cosa possiamo fare per i nostri capelli? Prima di tutto, non effettuare trattamenti troppo aggressivi. Dopo, in vacanza, cercare di evitare di utilizzare piastre e phon, asciugando i capelli il più naturale possibile. Quindi, Marilena, cosa mi devo portare al mare, in piscina, sulla spiaggia? Come ho detto prima, degli oli che servono a nutrire il capello, quindi a non farlo disseccare dai raggi UV, uno shampoo idratante e una maschera post-esposizione. Ma mi devo tagliare le punte prima o dopo? Non è necessario, dipende sempre dallo stato in cui sono i tuoi capelli. Nel caso potresti farti la tua bella stagione estiva e poi a settembre togliere le doppie punte. Grazie, Marilena. Quindi, come devo applicare i prodotti solari? E poi, come li devo tenere i capelli? Sciolti o legati sulla spiaggia? Allora, lo spray, cioè l'olio a spray viene applicato sulle lunghezze punte e poi con i polpastrelli delle dita viene massaggiato. Per quanto riguarda i capelli, se legati o sciolti, io proporrei i più legati, perché parliamo tanto di fonne e piastra, però non si parla tanto di sfregamento dei capelli. Praticamente il cappello sfregandosi con la salsedine può andare incontro alla rottura e quindi alla formazione delle doppie punte. Quindi io consiglierei di legarli con elastici morbidi, anche con una semplice cuda di cavallo, oppure ancor meglio proteggerli con dei cappelli o pagliette. Marilena, lo sai che mi piace tanto colorare i capelli, mi piacciono molto tanti colori e tu mi colli sempre ogni mio attimo di pazzia. È normale che questa domanda ti viene proprio spontanea. D'estate colorare i capelli? Valeria, sì, colorare i capelli sì, perché praticamente il colore non fa altro che andare a riempire il capello, quindi a nutrirlo. Ed è come se facesse da protezione proprio a tutto ciò che lo danneggia. Quindi io ti consiglio sì di colorarlo, di non rimandare a settembre, ma se c'è da fare la ricrescita si fa, se ci sono da fare dei colori fluo si fanno, anche se si scaricano, però comunque servono per nutrimento al capello. Allora, quando lo facciamo? Valeria, quando vuoi, io ti aspetto per fare questo fantastico colore prima della tua vacanza al mare. Grazie, speriamo che i suggerimenti di Marilena Panarelli vi siano stati utili, soprattutto alle donne e le mie amiche. Vi è piaciuto anche il video. Io non vedo l'ora di farmi il colore e poi ve lo faccio vedere. Quindi sai che può interessare o coinvolgere anche te. Ciao a tutti e buona vacanza! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!